Ciao a tutti youtubers, bentornati sul nostro canale qui oggi siamo su Games Paradise con un nuovo gameplay più specificamente di una boss battle, la prima boss battle di questo canale speriamo che ce ne siano molte altre la prima appunto quest'oggi è su Darksiders 2 come potete vedere naturalmente dal personaggio di morte prima boss battle, diciamo che come se avete visto il video di Darksiders 2 quello che ho fatto con Stefano e il gameplay più o meno dei pelini 20-30 minuti di gioco se non l'avete visto andatevelo a vedere appunto avevo detto che avrei fatto questa boss battle non so se ne farò altre almeno di questo gioco vedrò se magari trovo qualche boss battle davvero davvero interessante magari ci penserò su e farò anche video di quella però diciamo che per ora vediamo questa qui intanto adesso vi faccio vedere tutto il mio inventario tutti gli oggetti che ho raccolto finché sono arrivato a questo punto qui vediamo le varie armi avete visto le armi secondarie avevo moltissime asce, spade e cose del genere qui i vari gambali poi abbiamo visto anche adesso i talismani i vari oggetti adesso come potete vedere ecco dall'albero delle abilità mi sono specializzato soprattutto nelle abilità del necromante perché diciamo sono più fighe ecco mentre diciamo quelle araldo le ho un po' diciamo lasciate stare ma passiamo subito alla vera e propria boss battle eccoci qui entriamo in questa in questa sostanza si capisce subito che c'è una boss battle ecco per risvegliare il boss non dobbiamo fare altro che lanciare questa sfera e appunto il boss si rivelerà e il boss che vi voglio far vedere è carchinos esatto questa specie di insetto pianta non molto difficile da sconfiggere anzi diciamo abbastanza proprio facile in sostanza vabbè a parte che colpirlo ovviamente potremmo decidere di colpirlo ovviamente solo da sotto diciamo che il metodo giusto per ucciderlo è lanciargli questa sfera e lui praticamente come vedete verrà stordito dal corpo di questa sfera intanto noi possiamo ucciderlo menando questi fendenti al diciamo la parte molle che sta sopra perché altrimenti la parte so scusate sta sotto perché la parte sopra naturalmente non la possiamo colpire non è un boss particolarmente ostico anche se questi attacchi che vedete adesso infatti me le sta dando questi attacchi che vedete adesso con questi rovi sono un po' difficili da evitare però in generale non è un boss molto difficile da sconfiggere infatti non siamo verso la fine del gioco assolutamente anzi penso che siamo verso metà non mi pare poi naturalmente lui lascerà anche questi questi mini insetti che però non sono particolarmente anche loro difficili da sconfiggere e soprattutto non ci daranno troppo problemi se volete potete anche ucciderli ma come vedete non saranno nemmeno tanti a volte proprio li lancerà ma comunque diciamo che la cosa principale è sempre lanciare questa sfera e lui rimarrà anche per molto tempo diciamo così piegato stordito e noi possiamo attaccarlo quanto ne vogliamo adesso da riuscire a sconfiggerlo e invece no riesce a salvarsi il granchione guardate quanta vita gli è rimasta adesso appunto rifarà quell'attacco maldetto dei rovi e cercare esatto di schivarli in questo modo dicevo comunque prima che non so se farò altri boss battle questa diciamo che mi piace particolarmente diciamo per il mostro però appunto non lo so vedremo sicuramente arriveranno anche comunque in futuro altri boss battle di altri giochi però di Darksiders 2 appunto vedremo vedremo intanto qui esatto è schiantato il granchione la cacchina e qui la finisher trasformandosi nel tristo mietitore diciamo qui tutti i budelli che escono di fuori abbiamo preso il fantumatore di Carkinos sembra un'arma abbastanza potente e quindi diciamo questa boss battle finisce qui e il mostro si disintegra si apre la porta e possiamo continuare e quindi io vi mando ai prossimi video continuate a seguirci in tutti i nostri gameplay le nostre walkthrough le nostre preview e anche le nostre recensioni e quindi io vi saluto anche morte vi saluta visto che è un po' uno spazio vedete e quindi ci vediamo al prossimo video ciao